mondo della scuola e mondo del lavoro sempre più vicini grazie all'esperienza del job day e del tirocinio un progetto questo che ha visto nel reatino il convolgimento di 86 studenti degli istituti superiori aldo moro di fara sabina liceo scientifico gregorio d'accatino poggio mirteto luigi di savoglia di rieti istituto magistrale statale elena principessa di napoli marco terrenzio varrone di rieti oltre ad una settantina tra associazioni di categoria aziende enti pubblici sindacati e studi professionali un'attività quella della promozione dell'alternanza scuola lavoro sempre più strategica per la camera di commercio di rieti e per la sua azienda speciale centro italia rieti i ragazzi hanno potuto confrontarsi e mettersi all'opera con realtà sociali ed economiche a rieti ma anche nel resto della penisola oltre che in europa altri per un giorno e nell'ambito del job day sono entrati stretto contatto con ambienti di lavoro di tipologie differenti vivendo in prima persona le problematiche e i momenti operativi di specifiche attività lavorative